Bella ragazzi, sono Marci, oggi siamo qui con TheMark, stiamo per fare Marder, non so perché ci sono così tanti fan, mamma mia, incredibile! E non ho detto niente io, ma qua c'è Nala, c'è il cane di Dread. Nala! Ok, sono il Marder. Uh, sono il B-Stander con la Secret Weapon. Tu ovviamente sarai il Marder, io lo so già. Sure? Dai Marco, prendi l'italiano. Dimmi solo chi sei, così mi metti subito subito. Io sono il Marder, mi chiamo Hello Cold Juicy World. Sai che era proprio quello che stavo guardando? Hello World, gi 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 gi. Hello Darkness, my own friend. Allora ragazzi. Io ho quello di piccare subito il Marderignolo. Allora Fra, facciamo una cosa. No, è lui! È Alloneli! Chi è lui? Allora? No, no, no. Wow, wow! Io non vedo morti, tu vedi già morti? Bella, sono uscito dalla melma. Eh ma qua esci veramente dalla melma, lo sai? Io no, io ho assolutamente tre smeraldini, qualcuno ha provato a spararmi via! Marder? Cosa vuol dire Marder? Perché uno scher... Perché Nutella Waffle scher... Eh! Ho sentito qualcosa, mate! Allora, io devo fare una digressione per un attimo della felicità. Sono survived. Ok, buongiornissimo. La digressione sulla felicità non si fa nulla. No, non si fa perché non... Ma che la fai? Ma che scherzi? Uh, sono il Beastlander con il Kill the Marderer. Mi chiamo Cacti the Cactus. Mate, no mate, no mate ho scoperto un trucco per giocare a Marder. Se abbiamo sulla nostra mod per diventare piccoli, io ti vedo con la tua skin. Quindi io saprò sempre chi tu sei. Ma veramente? Te lo giuro. Ma che cosa brutta, ma è un ciccio. Vieni qua, ti ho visto, eri davanti a me. Eccoti, sei un altro da sopra, sei Cacti... Cactus. Ma come mi vedi quei amarci? Ma veramente sei il Marder? Mi ha ucciso qua dietro però, at someone. Ma mi ha ucciso il Marder! Eh, sai, eravamo vicini, ci ha ucciso entrambi! Marci Sponsorizami. Ok, ragazzi, iscrivetevi al chiedi oltrebor11. E niente, ciao a tutti. Se arriva a mille iscritti, gli regalo il mio canale. Ok, allora ragazzi, ho la Secret Weapon, finalmente riuscirò a fare una bella partita. E fu così che morì subito, anche questa volta. Oggi sarà un funny moment se basta. Ma ti pare caso che devo essere sempre io il Marder? Cioè io boh... Ma sei il Marder? Aspetta, se mi dici il Marder vengo e ti uccido. Allora, aspetta, prima devo vedere dove sei perché tanto so dove è la tua skin. Io sono un musical fan. E' proprio un vero fan della musica. No, ragazzi, questo video si chiama una musical.ly su Marder. No, quante visual fra... Madonna. Sono diventato un tiktoker. TikTok on the clock, Charlie Moon. Poi ho visto solo una storia di Charlie che... Charlie, tipo la roba di TikTok. Eh, TikTok, ma perché? Non lo so, però. E' una canzone del 2008. Medite questo il Marder, secondo me. Who is Marder? Mate, help me, mate, ma help me. Ma se c'è il weapon, ma perché dove è il park? Capito, ma zio, devi farmi da scudo umano. Cioè, tu ti metti da... The Marder has left? Oddio, il Marder ha leftato? A new Marder has been chosen. Dai, voglio uccidere il Marderinho. No, sono io Clockwork. Oh, raga, che fate? Oh, man. No, 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 no. Dimmi chi è il Marder. No, 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 non sono io il Marder, però quell' idiota mi voleva uccidere. Eh, ma dimmi chi è, secondo te è il Marder? E cosa ne so io? Ma secondo me, l'altro Marder... Eh, questo qua è. Questo qua è Usalive, Flossi, cosa, secondo me. Ah, probabile. Ma sai cos'è il fatto? Che io non vedo nessuno in giro. Qual è il problema? I wonder if it's... Dove Cactus siete? Prima ero Cacticactus, adesso voglio uccidervi tutti, ok? Ma secondo me il Marder non sa che è il Marder Sai che secondo me, pure per me, ho pensato prima Non è il Marder non sa che è il Marder? È Wanderers Mokovs, non è lui L'ho uccisa, questa di cui continuava a parlare, stava rompendo un po' i Marun Hai fatto bene, Fra, lo cerco, tranquillo Continuava a scrivere, mi dava un po' fastidio Non ti preoccupare, allora facciamo una cosa Tu adesso lasci giù la zappa perché vado a prendere io No, l'ho già preso Ah, ma c'è una zappa in alto Ce l'ha in ferro Fra, c'è qualcuno Fra, 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 è quello, è il grigio, Fra Ma era vero, zio No, ce l'ha in alto un grigio Dov'è, dov'è? Andiamo, andiamo a prendere Dove c'era la zappa, Fra Ma come dove c'era la zappa? Dove ho raccolto la zappa, bravo, sei lì? L'ha in alto, era La Dove era il grigio? Arrivo, un attimo, arriva Non c'è mica qua il tizio Se ne è data a gambe No, è lui No, mi ha ucciso, mate Vai, mate Vai, è qui, è qui Sali Sali, mate No, aspetta, aspetta No È lì Sate Vicino È andato nel coso Mate Forza Eh, non lo so È qua dietro È qui È dove sta andando il verde Unknown Raider Sta andando giusto Vai, vai lì Vai Vai dietro lì C'è tipo un passaggio segreto Ti dico io quando sparare Entra e spara Che cittata anomala Che cittata anomala che abbiamo fatto Ragazzi mi sono dovuto mutare un attimo, torno e sono il murder Fantastico Vero? Tante Questo bisogno del mondo Mi ha ucciso uno Tu chi sei? Io sono TPMC Spaz Ma tu capisci chi sono in realtà Io fra, so chi sei sempre Esatto Tu per forza sai chi sono Oh ragazzi c'è uno smeraldino Prendiamolo No, noi prendiamo sempre gli smeraldi No, mio Perché mi ha ucciso? Eri seriamente il murder? Sì, ma mi ha ucciso a caso Sono un murder Wuh Wuh Mate, sai che sono di nuovo il murder? Ma non ci credo neanche se ti vedo Va bene Io sono RK086 Vediamo se mi ucciderà di nuovo Dimmi solo chi è Erika Eri qualcosa Bstander è un blu Dico solo questo, eh Il Bstander è un blu Un azzurrino, no? Un blu Sir popola per 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 Lui Ma l'ha ucciso Coïne! Ma sei seriamente il murder? Sì Ah Ah Io sto ucciso Io sto correndo Me la sto facendo Fugando Stai lasciando il murder? Sì Però Vorrei che tu scoprissi Chi è Kawai qualcosa Che la voglio uccidere Sai proprio Per vendicarmi Proprio per dire Prima Ma che cosa hai fatto Prima Ma perché Allora Io sono nascosto Non uscirò Fino a quando Tu non morirai No mate Non puoi far così Dai Fai 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 A partita Davide Guarda Quando che sono io C'è una 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 weapon Se vuoi venire a prenderla Non ci vengo lì Dai mate Fai la persona Sì No Perché vengo lì Mi ammazzi Stupido Bufo Ma tu sei un nero? Ehi Bibi Sei uno Marci Siamo qua Sei tu? Marci Sei loving skill? Sì Dai vieni qua Marci Marci Sai cos'è il problema mate? E tu sei il mard E che tu sei l'ultimo Ma guarda Ah no Ce n'è Ce n'è un altro Dai mate Dimmi dove è l'altro No te lo dico No te lo dico Dimmi solo se è camper Sai che la gente si camper adesso Non è camperato Ok Meno male Dai meno quello E io come cacchio Faccio a trovarlo adesso Dove sei bomber? Vieni qua Che io ti ucciderò Io ta squarterò Ti farò soffrire Dove sei? Vieni qua Secondo me è il secondo piano Sai Io non ti dico nulla Era questo Ahah Ciao Ahah Ciao Ahah Ahah Ciao Ahah Che pira Pazziti Voglio fare un video con Deadmau5 Secondo te è fattibile Vidi male Diamolo al telefono Domani ti rispendo Sono di nuovo al marder mate Stai scherzando Tu sei Dai veramente C'è la weapon te magari No Ma questa che mappa è? E' quella lì che si spegne la luce Quindi adesso andremo e spegneremo la luce No mate Che pelaga tutto Quanto Siamo d'accordo Marci Mike is bad Stai attento Ah tu sei il role Tu sei Loving skill Io sappi che tanto C'ho la light Ma quindi Mate mi uccidono Mate mi uccidono Aiutami Speriamo che mi uccidano Mate uno di questi è il marder Comunque Ma se te è il marder Ma che cosa fa? Ah eh sì Questa mi uccide No non mi uccide Mi hit Ma che cosa fai? Ma perché? Io sono Ai 56 I 56 Ai 56 I 56 I 56 I 56 I 56 Get back or I will shoot you Get back or I will shoot you E ho capito ma io non ho niente per contrastare la gente One more time La 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 One more time Il colpo è Made in marder Ma io non ho ancora mai trovato la weapon Io sono il marder di nuovo E sono di cumino Ma smetti di dire cavolate per favore Dimmi chi sei Dimmi chi sei Dimmi cosa fai Vieni qua che ti ucciderò per sempre Però io sto camminando in mezzo al centro della mappa Devi dirmi chi sei perché io vengo lì e ti uccido Sarai il primo a moglie Goku non lo sai Però presto lo scoprirai E poi tu scomparirai Tu scolana? Io sto salendo piano piano La notte in combo Ma ho detto Mark sale E prende dello smerato Ho ucciso uno la mucca Non smetti uccidere le persone Ho ucciso la mucca Ho ucciso la mucca Tu dove sei? Marco Tu dove sei? Vieni qua che ti uccido Allora Tu sei Ufox? No no tranquillo Non ti preoccupare Vado a sono io Però Importante No mi ha ucciso Mi ha ucciso uno da dietro che mi ha seguito Ma eri seriamente il marder? Si ero seriamente il marder Ho bagato seriamente stavolta mi sa Comunque io amo la resata di Arctic Si ma io ho bagato di nuovo il game mate Perché? Perché sono il marder Cioè boh Come ti chiami? Sono M Ma siamo in 5 E allora vinci easy Fassi il marder Secondo me sei tu il marder Che l'ho fatto due minuti fa il marder Non posso farlo Ma tu non l'hai mai fatto il marder Non sta dicendo che sono morto prima che un pirma Mi ha insultato Dicendo che non ero capo Perché sei proprio un pirla Ragazzi sei proprio un pirlicchina Perché sei proprio un bilot Sto mingamici Ragazzi scriviti Che cosa vuol dire Secondo voi bilot Ma io questa parte qui non lo No qua c'è un cadavere mate E di chi è? E un orso polare tipo E ha pugni scheleton allora Guarda Guarda che passa che fai tab E vedi le facce zio Ah è vero Ah si ha pugni scheleton allora Mate io ho assolutamente bisogno di uno smeraldo Ce l'ho io? Lo vuoi? Dimmi dov'è Dimmi dov'è D'hai trovato Io ti vengo a prendere Sta succedendo qualcosa qua Oddio L'ho visto Ho visto il marder mate Chi è? Non me? E quello blu scuro Secondo me Michtione Però aspetta che lo voglio uccidere io Ma io devo trovare uno smeraldo Uno Regà uno smeraldo Uno solo Ma mate Ma gli smeraldi in giro non ce ne sono Ma questa pacquera famosa Perché ce ne sono pochi Zio non c'è smeraldi in giro Ma poverissima Che hai visto il marder uccidere qualcuno? No Mi ero ucciso Eh di te allora Michtil Che sbatta Volevo ucciderti io Eh mate Nea Gna Che palle Ragazzi Sono White and Downee E siamo di nuovo Solo in 5 E io morirò subito Ma l'ho già visto il marder E o Omg it's uni, secondo me, perché mi sembrava che stasse correndo. Mi sa che hai Moreo. No, zio, ti prego. Ti prego, no. Non mi uccidere. Ti prego. Ma sei il murder? No. Ma stavi correndo, stai correndo. Ma io c'ho un trucco. Come dovevo pompa... Perché è sempre me. No, è questo qua. Ma ha lasciato la spada. Ma è un idiota. Io me ne vado. Me la fugo proprio pesante, zio. Mi fai da scudo umano, per favore. Dividiamoci, no, mi sono diviso. Mi ha ucciso a me. Eh, vabbè. La phek. Viene a guardare dove sono. Dove sei, fra? Me la sto camperando, cazzo. Guarda. Che schifo che sei. Secondo me la posso capire tutto il tempo. Tutto il game, tutto. Madonna, che schifo sei! Se stai lì non ti becca. Se stai lì non ti becca. Qua, qua mi metto. Eh, ma se magari è su TS con gli altri, questo ragazzo. No, fra, ti prego stai lì. Ti prego tutta la partita. Se non li così. Aspetta, devo mettere ancora su. Tu metto dei pili sul contro, sullo shift. Se no, tipo, no, cazzo. Fra, allora, rimani fermo, fra. Rimani fermo. Sta arrivando. Stai arrivando, fra, rimani fermi. Qua ti passerà davanti tra un dieci secondi neanche, eh? Secondo te mi vede? No, no, fra, sei invisibile un tot. Guarda. Allora, ti vede perché è in sottile con gli altri. Sì, è vero. Guarda, no, non ti ho visto fra. È andato. Ma io ne l'ho proprio visto passare, mate. Ma non ci sono più i minuti come una volta, mate. Ma come no? Adesso è l'infinito. Siete tu e lui. Ah no, 240 secondi. Siete tu e lui. Devo stare... Oddio. Oddio, mate. Devo stare... Siete tu e lui, bro. Devo stare quattro minuti fermo, mate. Ma faccio. Eh, ti spacchi il pollice, l'indice l'armolare. Mi devo mettere... Devo mettere un peso sopra. Oh, questo powerbanging qua mi sembra adatto. Allora, raga, provo a rimettere. Vediamo se si arresta di nuovo. No, non ce la fai, mate, andare a prenderti la weapon. Allora, devo stare fermo qui altri tre minuti, quindi mi stai dicendo. Sta arrivando, forse, occhio, eh. Mi ha visto, probabilmente, vero? No, non ti ha visto. Devo proprio stare fermo perché ho paura che poi lui magari mi veda. Due minuti, mate. Gli ultimi 30 secondi esci, dai. No, non riesco. Ma il fatto è che se lui scende davanti a me mi vede. Che saranno i due minuti più lunghi della mia vita, probabilmente. Dai, parliamo di... No, ti faccio un po' di soundtrack, così quando devi montare il video. Perché sei un Harry Potter? Vabbè, allora non hai il copyright, dai. Mi mancherà 60 secondi a breve. No, mate, mancherà 60 secondi a breve. Mate, è tipo la cosa più lunga della mia... È interminabile a sti 60 secondi. È sopra. Sta scendendo. Occhio, eh. Occhio, eh. Mate, l'ho visto. È la mia sinistra. Sì? È là in alto. È sceso? Mi ha visto. Mi sa che t'ha visto. Mi ha visto. No, mi ha visto. Merdone. Ragazzi, spero che questo video di Marder vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento. E spero che questi funny moments vi piacciono. Ci vediamo. Thank you so much, guys. Settimana prossima è un nuovo video di Marder. Da Marcia è tutto. Bye, bye. Bye, bye. Bye.